Anticipazioni Terra Amara. Demir durante il suo ritorno a casa farà una terribile scoperta. Inoltre vedremo compiere a Fikret un brutto gesto nei confronti di Demir. Vuoi sapere cosa accadrà? Bene. Allacciatevi le cinture. E si parte. Zuleya si offre di accompagnare Sevda in ospedale, poiché questa non sta bene ma è riluttante a farsi visitare da un medico. Arrivate in ospedale, vengono accolte da un'infermiera che osserva Sevda in modo molto attento. Inizialmente, Sevda minimizza i suoi sintomi, ma con l'incoraggiamento di Zuleya, decide di riferire di avere tachicardia e intorpidimento al braccio sinistro. Umit, esperta in cardiologia, la informa che si tratta di sintomi importanti e si prenderà personalmente cura di lei. Dopo una visita accurata e un elettrocardiogramma, Umit diagnostica una leggera aritmia e le prescrive un farmaco preventivo, oltre a fornirle consigli comportamentali da seguire quotidianamente. Zuleya ringrazia Umit e decide di invitarla a cena, desiderando farlo da quando l'ha conosciuta all'evento presso il circolo cittadino. Quella sera stessa, a Villa Yaman, Umit è imbarazzata dall'invito a casa di Demir, dove sa che inevitabilmente lo incontrerà. Cerca di rifiutare, ma Zuleya e Sevda insistono. Nel frattempo, Fikretta accompagna Mushgan a casa Kukurova, dove si imbatte subito in Fekeli. Questi le chiede come si sente dopo aver affrontato il funerale della zia. Mushgan, vergognandosi per il suo comportamento nei confronti di Beis, non riesce a guardarlo negli occhi. Tuttavia, Fekeli la rassicura, dicendole che non deve vergognarsi e che deve mantenere alta la testa di fronte alla gente, poiché non è colpevole. Inoltre, lui si assicurerà che non venga trattata male né importunata. Mushgan teme che la chiameranno nipote dell'assassina, ma Fekeli le assicura che la chiameranno nuora di Fekeli e la tratteranno con rispetto. Inoltre, la proteggerà finché vivrà. Prima di continuare se ti va, iscriviti al canale e lascia un mi piace, grazie di cuore se lo frai. Ripartiamo. Successivamente Fikret va dal barbiere, che inizia a parlare di Demir e sua moglie, rivelando che hanno trovato l'assassino di sua madre. In seguito, le parole di Fekeli riguardo a Demir lo dipingono come un giovane coraggioso e onesto, proprio come suo padre, e come lui, è uno dei notabili di Kukurova. Fikret si scompone all'udire questi elogi e lo esorta a completare il suo compito. È sera quando Umit raggiunge Villa Yaman e guarda con curiosità la dimora di Demir. Una volta all'interno della villa, viene accolta calorosamente da Zuleya e Sevda. Anche Ammin esprime il suo apprezzamento, definendola bellissima e suggerendo che potrebbe essere sua nipote. Zuleya, sorridendo, spiega che la nonna soffre di demenza senile. Poco dopo il ritorno di Demir a casa con un regalo per Zuleya, lei gli presenta il loro ospite di quella sera. Quando Demir si gira e vede Umit, trattiene astento il suo disappunto. Umit gli dice subito che non voleva disturbare, ma Zuleya aveva tanto insistito. Allora Zuleya racconta a Demir di aver portato Sevda in ospedale per un controllo e Umit era stato molto gentile. Demir, seppure imbarazzato, invita gentilmente Umit a tavola. Nel frattempo, in cucina, mentre Gulten, Cetin e Fadik stanno cenando, entra Rashid e dice a Fadik di avere fame e voler mangiare. Lei è ancora arrabbiatissima con lui e gli intima di uscire, ma lui si lamenta tanto per cui lei gli dà un panino e lo caccia dalla cucina. Cetin chiede a Gulten perché Fadik tratta male Rashid e lei gli racconta che l'ha lasciata al giorno del matrimonio e non sono sicuri che la sua scusa sia vera. Cetin è perplesso, ma Gulten gli spiega che in lui c'è qualcosa di strano come se nascondesse qualcosa. Intanto al piano di sopra la conversazione è molto cordiale tanto che Umit dice a Zuleya che potrebbero diventare amiche e le chiede di chiamarla per nome. Sevda le fa delle domande personali e Umit racconta che ha perso sua madre da tempo e Sevda è molto colpita dalla notizia. Poi Sevda nota che Demir e Umit si guardano furtivamente ed inizia ad osservarli in modo attento. Successivamente nota al polso di Demir e Zuleya rivela a Sevda di essere un regalo di un cliente del marito e che Demir la ama profondamente. Umit, sorpreso dalla notizia, commenta che è un regalo affascinante. La notte è ormai avanzata quando Fikrette inventa una scusa per lasciare la casa con Fekeli e si intrufola segretamente nella fabbrica di latticini di Demir. Qui, danneggia enormi contenitori di latte, facendo riversare il loro contenuto a terra. Mentre sta per andarsene, nota che Fekeli lo sta osservando. Nel frattempo, Zuleya invita Umit a unirsi alla sua associazione di beneficenza, sottolineando che sarebbe un onore per loro e che avrebbe l'opportunità di fare nuove conoscenze. Umit accetta con gratitudine, ringraziandola per la sua ospitalità. Quando Umit decide di andarsene, Zuleya chiede a Demir di accompagnarla in macchina, ma lui rifiuta, dicendo di essere venuto con la sua auto. Nel frattempo, Sevda osserva la situazione con sospetto. In quel momento, una telefonata avvisa Demir del danno causato alla sua azienda casearia. Demir esce di casa immediatamente. Più tardi, Sevda si assicura che Zuleya e i bambini siano a letto e poi esce di casa con la macchina, dirigendosi verso la casa di Umit. Quando Umit le apre la porta, Sevda gli chiede dove sia Demir, ma Umit le chiede perché stia cercando lui. Sevda rivela di essere a conoscenza della relazione tra Umit e Demir, ma Umit nega tutto e la accusa di essere fuori di senno. Tuttavia, Sevda insiste sul fatto di aver notato gli sguardi e le allusioni tra i due amanti, e le ordina di porre fine a questa relazione, altrimenti sarà un disastro per tutti, soprattutto per lei stessa. Demir, avendo appreso del danno nella sua azienda casearia, ha rimproverato il guardiano per non aver notato l'intrusione e la distruzione di tonnellate di latte. Nel frattempo, Sevda, dopo aver fatto visita a Umit, torna a casa in macchina e nota una busta lasciata da Fikret che sporge sotto il sedile. La raccoglie mentre Umit è visibilmente turbata e offesa dalle parole di Sevda. Poco dopo, Demir raggiunge Sevda e la ringrazia per il regalo dei gemelli, quindi esprime la sua sorpresa nel vederla in casa. Umit spiega che Zuley ha insistito molto affinché venisse e non ha potuto rifiutare. Demir nota la sua turbolenza e le chiede il motivo. Umit risponde che è felice che sia lì perché con lui si sente tranquilla e sicura. Demir la abbraccia per rassicurarla, affermando che è felice quando è con lei. Demir, avendo appreso del danno nella sua azienda casearia, ha rimproverato il guardiano per non aver notato l'intrusione e la distruzione di tonnellate di latte. Le anticipazioni terminano qua. Qual è la tua impressione? Se vuoi il continuo della storia, scrivi certo nei commenti. Ciao!